Buongiorno, l'obiettivo di oggi sarà quello di sviluppare insieme la soluzione all'esercizio di laboratorio numero 2. Direi di passare però subito ad Eclipse e vedere qual è la situazione di partenza. Abbiamo un solo package Alien in cui sono contenute più classi, alcune completamente implementate, alcune invece le implementeremo insieme. Direi di provare intanto a fare un run del mail e ciò che otteniamo è un'interfaccia grafica già implementata e ciò che ci aspettiamo dall'interfaccia grafica è di poter consultare e avvicchire un dizionario alieno, ovvero scrivendo qualcosa del tipo prv e poi andando a cliccare su translate vorremmo andare a trovare la corrispondente traduzione di prv. Scrivendo invece qualcosa del tipo prv prova, andando a cliccare su translate vorremmo poter aggiungere prv con traduzione prova al nostro dizionario. Cliccando su clear text ciò che vorremmo fare è appunto come suggerisce il bottone di pulire l'interfaccia. Direi di partire da l'interfaccia stessa che è stata sviluppata con SimBuilder. La struttura è quella di un border pane di cui solo la parte centrale ci interesserà. La parte centrale è stata sviluppata come un vertical box, un box che contiene tre elementi, un box orizzontale, un hbox, una textarea, dove vedete scritto welcome to alien dictionary e il bottone clear text. L'hbox a sua volta contiene diversi elementi come l'abel, alien text, il text field, il bottone e l'image view. Per quanto riguarda il bottone translate ad esempio abbiamo un id btn translate a cui è associata un'azione ovvero un metodo do translate e in clear text avremo un id btn reset e un'azione associata do reset. Direi che per quanto riguarda l'interfaccia sappiamo tutto. Possiamo passare a vedere un po' scoprire queste classi una per uno. Partiamo da Word che vi presenterò già completamente implementata. È una classe piuttosto semplice, non presenta grandissime difficoltà. In questa prima parte di esercizio la classe Word presenta due stringhe, una rappresentante la parola e il linguaggio alieno, una rappresentante la sua traduzione. Abbiamo due tipi di costruttore, un costruttore semplice che prende come input un solo parametro che è la parola aliena, un secondo costruttore più complesso che prende come input sia la parola aliena sia la traduzione e poi ovviamente queste due stringhe verranno settate opportunamente. Inoltre abbiamo dei metodi getter, setter, ad esempio questo secondo metodo setTranslation come suggerisce il nome ci permette di settare una traduzione e ad esempio questo metodo ci può tornare utile se utilizziamo il primo costruttore, quindi in questo caso ci basta un alien world per creare un oggetto ma non abbiamo settato la traduzione subito, possiamo farlo in un secondo tempo. Oltre a ciò, dato che Word è una classe che abbiamo creato noi, dobbiamo crearci un hashcode, un equals, nel caso volessimo confrontare degli oggetti oppure utilizzare delle particolari strutture dati come ad esempio le mappe. Per ottenere questi metodi possiamo fare come facciamo per i setter e i getter, quindi andando su source, generate hashcode and equals. Cosa ci interessa? Beh, due oggetti Word sono uguali, non se hanno uguale traduzione ma se hanno uguale alien world appunto. E quindi selezioniamo alien world, generate ed ecco qua. Abbiamo il nostro metodo equals e il nostro metodo hashcode implementati. Allora, più importante direi dal punto di vista della gestione del dizionario è alien dictionary, che si basa però sulla classe world. Alien dictionary è un dizionario implementato come lista, o meglio come vediamo nel costruttore come adiList, di appunto Word. Abbiamo un metodo che ho scelto di presentare già implementato perché c'è davvero poco reset dictionary, andiamo semplicemente a pulire la playlist. Per quanto riguarda invece il primo metodo, ad Word, dovremmo capire come aggiungere una parola nel dizionario sapendo la parola da aggiungere e la sua traduzione. Partiamo appunto da Word. V uguale, new, parola, quindi Word, alien e trans. Ok? Possiamo utilizzare il costruttore completo. Se nel dizionario è contenuto, è contenuto la parola v e possiamo farlo perché abbiamo implementato equals, allora dictionary.get dictionary.index.avv.setiamo la translation trans. Ovvero, se il dizionario contiene già la parola, andiamo a aggiungere, aggiornare la traduzione. E poi possiamo direttamente ritornare perché il lavoro è completato. Altrimenti facciamo semplicemente dictionary.advv. di Word. E questo primo metodo direi che è stato implementato. Per quanto riguarda invece il secondo metodo, translate word, sappiamo che vogliamo ottenere la traduzione di una determinata parola in linguaggio alieno che qua chiamiamo alien. Partiamo da Word. V doppia, è uguale. New word. In questo caso usiamo il costruttore più semplice perché solo ciò abbiamo, quindi non possiamo già sapere la traduzione, altrimenti tutto non avrebbe senso. Dictionary.contains.v. Scusate, v. Se il dizionario contiene la parola che cerchiamo, possiamo ritornare la sua traduzione scrivendo dictionary.getdictionary.indexof.gettranslation. Nel caso invece in cui la parola non sia presente nel dizionario, andremo a ritornare null perché appunto non abbiamo nulla da ritornare. Direi che la classe alien.dictionary è stata implementata del tutto, quindi prima di andare avanti è buona norma andare a testare questi metodi per evitare poi di scrivere tanto codice, implementare tanti classi, avere poi dei problemi e non sapere dove questi problemi saltano fuori. Quindi ho creato una semplice classe di test in cui creiamo un oggetto alien.dictionary, andiamo a testare prv e scusate, andiamo a testare add word usando prv e prova come parametri e andiamo a testare anche il metodo translate word, ovvero noi vogliamo aggiungere prv che ha traduzione prova nel dizionario e vogliamo sentirci dire che in lingua aliena prv significa appunto prova. Ora, con queste tre semplici righe andiamo a testare tutto ciò che abbiamo implementato. Direi che possiamo fare run as, cioè application, tutto sembra funzionare, in lingua aliena prv significa prova. A questo punto abbiamo la certezza che la nostra classe funzioni, che almeno non presenti grandi problematiche, possiamo adesso andare a implementare il controller. Passiamo al controller e avremo due metodi principali, un metodo do reset e un metodo do translate, ovvero i metodi di cui ho parlato prima. Allora, il metodo do reset semplicemente andremo a pulire l'interfaccia, quindi label texto, scusate testo, punto clear, txt result, punto clear e alien dictionary, punto reset dictionary. E fino a qua tutto bene. Per quanto riguarda invece do translate, dobbiamo un po' capire quali sono le problematiche che possono uscire appunto dall'interazione con l'utente. Per mia abitudine preferisco sempre pulire testi result prima di iniziare a scrivere qualsiasi cosa. Abbiamo una stringa che è quella che ci rappresenta ciò che l'utente ha inserito, quindi andremo a prendere tramite get text ciò che l'utente ha inserito e facciamo to lowercase per evitare ogni sorta di problemi con maiuscole e minuscole. E riga uguale uguale null, oppure riga.lent uguale uguale a zero. Allora possiamo scrivere txt result punto set text inserire una o due parole e possiamo ritornare perché significa che l'utente non ha inserito nulla e quindi non possiamo di certo tradurre nulla. A questo punto possiamo usare string tokenizer string tokenizer st uguale new string tokenizer e ciò ci permetterà di suddividere una stringa in più sotto stringhe. Noi vogliamo suddividere riga facendo attenzione agli spazi, quindi se ci sono spazi le stringhe che potremmo ottenere sono quelle prima, nel nostro caso, e dopo lo spazio. Ovviamente se ci fossero più spazi, otterremo più spazi non consecutivi e otterremo più sottostringhe. Per spazi consecutivi invece nessun problema. se st, anzi, se non è vero che st ha più elementi, allora andremo a scrivere in txt result punto set text. Questa in realtà è una cosa aggiuntiva che di base non inserisce, non aggiunge nulla a ciò che abbiamo già fatto, si può anche evitare. Non è sbagliato ovviamente, è per utilizzare il metodo direi as more elements, ma nulla di fondamentale, un po' superfluo. Comunque lo abbiamo fatto. Direi che a questo punto siamo più che sicuri che qualcosa è stato inserito, quindi string alien world uguale st.nexttoken. Ok, a questo punto ci chiediamo, se st ha più token, allora cosa succede? Allora, se ha più token, sicuramente vorrà dire che noi vorremmo andare a inserire una parola nel dizionario, quindi avremo una traduzione che sarà data, scusate, da st.nexttoken. A questo punto dobbiamo fare qualche controllo, ovvero, se alien world.matches e con matches ci serve una regex, che cosa? ovvero a z a z maiuscola se ciò è soddisfatto, ovviamente uno o più volte, o anche zero, ma in questo caso ce lo togliamo già, quindi nessun problema, translation.matches la stessa regex. cosa stiamo facendo? Adesso cerchiamo di capirlo meglio. Se ciò è vero, ovvero, se è vero che alien non matcha ciò e la translation non matcha ciò, e quindi c'è qualche problema, possiamo scrivere su txtresult punto set text inserire solo caratteri alfabetici perché e poi possiamo ritornare perché appunto accettiamo solo caratteri a z o a z maiuscoli e nulla più quindi se ciò non è vero, se ci sono caratteri speciali allora noi non siamo in grado di fare niente, non ci interessa, se c'è qualche errore chiediamo all'utente di inserire solo caratteri alfabetici. Ancora, a questo punto siamo sicuri che ciò che è stato inserito è corretto, possiamo aggiungere la parola che sarà alien word e translation ok, ci siamo. A questo punto possiamo scrivere su txtresult set text la parola due punti qua dobbiamo stare attenti ai caratteri di escape così più alien world più così e con traduzione due punti backslash ok translation più ciò ciò ok bisogna fare un po' di attenzione però si può fare è stata inserita nel dizionario e dovremmo esserci posso andare a capo qua per rendere il tutto un pochettino più leggibile ok in questo caso la parola è stata inserita nel dizionario ma se scusate st non ha più tokens allora else cosa dobbiamo fare l'utente vorrà sapere una traduzione quindi prima facciamo qualche controllo ovvero se alien world punto matches e possiamo usare la reggis di prima questo criterio allora se ciò è vero ovvero se è vero che alien world non è scritta con soli caratteri alfabetici possiamo scrivere in txt result set text ho scritto bene ok inserire solo caratteri alfabetici ok e possiamo ritornare ora andiamo prenderci la traduzione translation alien dictionary punto translate word alien world ok però ancora se la traduzione che ci viene data è diversa da null allora tutto è andato bene perché avevamo la parola e possiamo scrivere che la traduzione è la seguente texti result set text traduzione e quindi nessun problema altrimenti dovremmo andare a dire sempre in texti result la parola cercata non esiste nel dizionario ok a questo punto direi che anche il nostro console ore è terminato possiamo andare a testare il console ore andando a dare un run del main poiché sappiamo che tutto adesso è stato testato e quindi gli unici problemi che possono esserci in teoria sono nel console ore proviamo alien text prv translate la parola cercata non esiste nel dizionario se scriviamo prv prova la parola prv con traduzione prova è stata inserita nel dizionario adesso se cerco prv prova lo trovo subito faccio clear text tutto si pulisce se scrivo prv prova 2 col numero inserire solo caratteri alfabetici se scrivo prova 2 con caratteri alfabetici e poi vado a cercare prv in questo caso ottengo prova 2 e quindi la traduzione aggiornata per quanto riguarda questa prima parte di esercizio direi che siamo arrivati al termine ciò che ora vorremmo però poter fare è aggiungere qualche caratteristica al nostro programma ovvero vorremmo poter ottenere più traduzioni per una parola ovvero prv potrebbe voler dire più cose un'altra cosa che vorremmo poter fare è tradurre delle parole che non sono state scritte completamente ovvero possiamo scrivere una parola con un punto interrogativo al suo interno e ci aspettiamo come risultato la traduzione di tutte le parole che possono andare bene con ciò che abbiamo scritto ovvero pr.interrogativo e magari nel nostro dizionario abbiamo sia prv che prt allora tutte e due matchano possiamo dire pr.interrogativo e quindi avremo le traduzioni di prt e prv insieme per fare ciò torniamo su eclipse e passiamo a un altro progetto che è molto simile a questo direi quasi intorno uguale stessa interfaccia grafica possiamo partire dal main possiamo dare run l'interfaccia grafica è la stessa quasi tutto è lo stesso a parte alcuni dettagli partiamo dalla classe word in angst in questo caso cosa succede abbiamo una stringa alien word ovvero la parola aliena e poi non solo una stringa ma una lista di stringhe per indicare tutte le traduzioni possibili vi nascondo ciò al momento e ce lo teniamo per dopo i costruttori sono analoghi a prima ovviamente in questo caso translation sarà una playlist quindi lo inizializziamo anche nel consolore scusate nel costruttore con un solo parametro lo inizializziamo già diciamo è una playlist di stringhe però poi ce lo creiamo almeno nel costruttore completo ovviamente possiamo crearlo e anche andare a segnare ad aggiungere in translation la traduzione che ci viene data compare wild ce lo teniamo per dopo sarà un metodo che ci permette appunto di andare a comparare una parola un alien wild ovvero una parola aliena con un carattere nascosto ma ci dedicheremo a ciò dopo abbiamo un metodo get translation molto semplice partiamo da stringa vuota andiamo a fare un follow su tutte le parole contenute in translation e appunto le aggiungiamo a s e otteniamo una stringa con tutte le nostre traduzioni e la ritorniamo se translation è simile a prima in questo caso però abbiamo più traduzioni quindi dobbiamo fare un controllo se translation contiene non contiene translation semplicemente non la aggiorniamo ma la aggiungiamo string get alien questo è il get e otteniamo alien world per quanto riguarda l'hashcode equals nulla è cambiato ok a questo punto direi di passare a implementare alien dictionary che è una classe molto simile a alien dictionary di prima perché appunto viene implementata come un dizionario quindi una lista di non più parole ma word enhanced in questo in questo caso nel costruttore la lista vediamo che in realtà viene implementata come allay list tutto molto simile a prima ovvero abbiamo un metodo reset dictionary che si occupa di fare dictionary clear per quanto riguarda l'aggiunta della parola per l'aggiunta nulla è cambiato ovvero non dal punto di vista di alien dictionary perché ovviamente andiamo questa volta non a creare un oggetto word ma word enhanced ridoppia col costruttore con alien e basta e ci chiediamo se il dizionario contiene già questa parola cosa facciamo andiamo a settare la traduzione quello che cambia è che in questo caso la traduzione non viene aggiornata ma viene aggiunta e ciò dipende proprio dalla funzionalità del metodo set translation e lo possiamo vedere qua all'interno appunto andiamo ad aggiungere come abbiamo già visto prima una nuova traduzione ritorniamo altrimenti settiamo la traduzione ovvero la aggiungiamo e aggiungiamo anche la parola al dizionario per quanto riguarda invece translate word ci occupiamo di un solo parametro della string alien ci creiamo un oggetto we di tipo word enhanced e ci chiediamo se il dizionario contiene we allora possiamo ritornare alla sua traduzione prendendo get translation che in realtà sarà un get translation perché in word enhanced il get translation come abbiamo visto si occupa di ritornare una stringa che è composta da tutte le traduzioni appunto della parola che ricerchiamo per quanto riguarda invece l'ultimo metodo è dove dobbiamo un po' aguzzare la vista per trovare ciò che ci serve allora partiamo da qua alien wild cad uguale a alien wild cad wild cad e direi che una volta vista questa riga di codice tutto sarà chiaro e tutto sarà molto semplice il colpo di genio sta qua ovvero se noi rimpiazziamo il carattere di escape e il punto di domanda con il punto facciamo una semplice sostituzione quindi dal punto di domanda passiamo al punto noi siamo già a posto perché nel mondo delle regex punto vuol dire qualsiasi carattere quindi da qua in poi tutto in discesa int match count lo inizializziamo a 0 meglio direi con la minuscola string builder sb uguale new string builder ok a questo punto for cicliamo world in next in dictionary ok se v punto compare while che cosa la nostra nuova alien wildcard se la contiene allora match counter sarà incrementato e in sb punto andiamo ad aggiungere la traduzione v punto get translation e ci aggiungiamo anche una capo allora a questo punto cannot be resolved ovviamente string builder ok per quanto riguarda invece match counter qua ho scritto una cosa illegibile quindi match counter ok ci siamo andiamo a aggiornare match counter tutte le volte che compariamo compare wild se comparando riusciamo a ottenere ciò che desideriamo ovvero compariamo e otteniamo un risultato allora andiamo a aggiungere match counter e andiamo a appendere in sb il risultato poi cercheremo di capire un attimino come abbiamo implementato questo metodo compare wild ci basta sapere per ora che questo metodo si basa su alien wild card che è la stringa esattamente che ci viene passata dall'utente con questa semplice sostituzione direi che possiamo anche togliere il mistero possiamo andare subito a vederlo di base che cos'è che succede sono due righe di godice ci basta controllare se in compare wild se la stringa che ci viene passata alien world scusate se la singa che ci viene passata alien wild che usiamo come la usiamo come regex e se alien world matcha questa regex che noi passiamo allora vuol dire che true le due cose combaciano immaginiamo di passare pr punto di domanda che qua diventa pr punto allora se alien world ovvero la parola in questione aliena ad esempio prt matcha pr punto di domanda pr punto sì per forza perché pr poi tutti i caratteri in questo caso t quindi le due cose matchano e quindi possiamo ritornare true ovviamente possiamo scriverlo qua come commento velocemente pr punto di domanda è l'alien wild che noi facciamo diventare pr punto e quindi prt ad esempio matcha pr punto e quindi in una riga abbiamo risolto tutto se così non è diciamo false possiamo tornare qua quindi stiamo ciclando su dictionary di oggetti appunto word next se dalla comparazione ci viene dato risultato positivo match counter sale perché abbiamo delle parole che possono andar bene appendiamo in sb e direi che il grosso poi è fatto perché poi basta chiederci se il nostro match counter che questa volta cerco di scrivere bene è diverso da 0 ovvero abbiamo trovato qualcosa possiamo ritornare sb to string la nostra stringa altrimenti questo posso posso anche evitarlo di base altrimenti ritorniamo null direi che la nostra nuova classe alien dictionary è stata implementata con due metodi che non sono praticamente cambiati ne è cambiato il funzionamento perché sono cambiati i metodi set translation e get translation e l'ultimo metodo un po' più diciamo interessante è translate world world scusate wildcard che direi tutto si basa su questa su questa stringa possiamo passare al controller in questo caso lo commenterò brevemente ma nulla di cruciale è cambiato due reset è identico a prima due translate è molto simile partiamo con gli stessi consolli consolli sull'input creiamo il tokenizer ci chiediamo se abbiamo più tokens allora è esattamente uguale a prima vogliamo semplicemente aggiungere una parola altrimenti ed è ciò che cambia perché il caso di aggiunta parola non è cambiato è uguale a prima nel caso invece noi vogliamo consolare se una parola vogliamo consolare la traduzione di una parola allora ci dobbiamo chiedere se alienword.nonmatcha a z a z col punto di domanda in questo caso allora inserire solo caratteri alfabetici alfabetici incluso il punto di domanda che in questo caso consideriamo come elemento wildcard se tutto va bene allora se macciamo ciò ovvero macciamo a z a z con punto di domanda ma non mettiamo a z a z vuol dire che la differenza è che in alienword c'è proprio il punto il punto di domanda inserito allora in questo caso è chiaro che quello che l'utente vuole fare vuole tradurre con wildcard e quindi usiamo il metodo che abbiamo appena implementato translate word wildcard nel caso invece in cui non ci sia il desiderio di tradurre con wildcard passiamo alla traduzione classica che è esattamente ciò che abbiamo già fatto prima e con interdettivi sotto casi in cui non abbiamo nessuna traduzione o nel caso invece questo qua in cui abbiamo una traduzione prova direi che possiamo testare questa nuova applicazione diamo run ok possiamo fare ciò che abbiamo già fatto prima prv prova ok traduzione prova è stata inserita la parola prv con traduzione prova scusate è stata inserita prv prova 2 translate ok la parola prv con traduzione prova 2 è stata inserita se io cerco prv ciò che ottengo è prova e prova 2 quindi non abbiamo perso la traduzione di prima se scrivo prt che vuol dire mettiamo privato ok la parola prt traduzione privato è stata inserita vado a cercare pr punto di domanda ottengo sia prova prova 2 per prv sia privato per prt direi che anche per questo laboratorio abbiamo terminato abbiamo avuto alcune difficoltà legate appunto all'implementazione di alcune alcune classi abbiamo giocato un po' col controller quindi con tutte le problematiche che possono uscire da ciò che l'utente inserisce abbiamo utilizzato la regex e proprio grazie alle espressioni regolari che abbiamo potuto disolvere questo problema della wildcard in modo molto elegante e in modo molto rapido direi che possiamo salutarci abbiamo terminato al prossimo laboratorio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti